Ciao ragazzi sono Max Felicitas e colgo questo momento un attimo di tempo libero che ho intanto che aspetto un appuntamento per illustrarvi quello che sta succedendo quello che sta andando a fare ultimamente ho aperto un nuovo sito internet che si chiama www.maxfelicitas.net che è un sito in cui io metto i miei blog ma la cosa fondamentale è che lì potete anche contattarmi se volete fare serate e robe e soprattutto la cosa fondamentale è che ci sono i miei videopornoli quindi potete andare lì a vederli adesso sto un attimo testando il sito, il sito è già partito mi fa piacere che tanti di voi hanno già preso il primo video che è uscito e invito a chi non l'ha fatto potete visualizzare il trailer o addirittura comprarlo per vederlo in streaming quindi non avete neanche la rottura di palle che vi arriva roba a casa perché lo comprate direttamente sul sito e lo guardate direttamente lì cosa voglio dirvi ancora? ho aperto inoltre una mia pagina sul sito patreon.com che vi lascio qua sotto in descrizione per appunto creare una sorta di famiglia nostra, di me, di tutti quelli che mi seguono in cui io vado a investire totalmente i soldi che mi mandate su questo sito patreon.com che tra l'altro è una cosa interattiva per cui l'ho messa perché è una figata praticamente perché voi andate a fare una donazione a me che non è che mi servono quei due dollari ma è proprio perché voglio investire, tu che mi mandate voi, nel fare video quindi per quello che riguarda l'intrattenimento che io da queste cose qui, da questi video non ci guadagno niente però mi piace regalare un sorriso alla gente quindi per chi vuole regalare tramite almeno un sorriso alla gente può fare una donazione su questo sito che può essere di un dollaro per un caffè virtuale adesso non mi ricordo bene, tipo 5 dollari per essere salutati nel prossimo video di youtube comunque potete andare a vedere, è proprio interattivo, cioè in base alla donazione che fate avete anche un background a me cioè addirittura si può arrivare anche a una cenesima a me ma appunto andate a vedere su patreon.com, non è niente di difficile, secondo me è un sito simpatico quindi ve l'hanno presentato a sto sito e non vedevo perché non creare un profilo anch'io per essere ancora appunto più vicini a voi e questo è tutto, beh ho visto ieri che ha vinto Sanremo Gabbani mi sembra si chiami se non sbaglio, secondo me io devo essere sincero ti favo per la mannoia, però ha vinto Gabbani e vuol dire che se lo meritava comunque ha fatto una cosa innovativa che non si era mai vista al festival se non è che sono incazzato per la sua vittoria, oddio la mannoia va alla canzone migliore senza ombra di dubbio, anche come testo, come base, come tutto quindi è andata così quindi vi rinnovo l'invito a seguirmi su tutti i social network facebook, instagram, twitter e di andare appunto sul mio sito a vedere sti nuovi cazzo di video hard www.patreon.com slash maxfelicitas, vi lascio il link in descrizione se volete appunto interagire con me e fare una donazione anche di un dollaro che io, come vi dico, andrò a investire totalmente, quello che mi date voi, nella realizzazione di video dal comprare videocamere ma soprattutto nella realizzazione di video nel senso trovare special guest per i video, fare video fighi, andare in posti fighi solo per intrattenimento, quindi solo per voi senza guadagnare niente io ma solo per regalare un sorriso perché è quello che manca nella società d'oggi il sorriso della gente vi abbraccio a tutti, un bacio a tutti e ci vediamo nel prossimo video continuate a seguirmi, ciao, peace